Allora cari amici della taverna dei lettori lo sentite questa musica di sottofondo ho ricreato Un bel clima natalizio col condizionatore come si sta bene come si sta bene vengo da un bel weekend devo dire fatto a mare un bel bel terrazzo mi sono dedicato tantissimo alla lettura sta procedendo anche la serie di Greystorm però ho voluto portare a termine ne ho approfittato questo sabato e domenica per portare a termine questo romanzo questo thriller che si chiama La psichiatra di Wolf Dorn Non so se avete familiarità con questo genere di quello che poi in realtà viene chiamato psicotriller no? Ecco ci sono tanti esponenti tanti rappresentanti devo dire che ho portato qualcosina qua però mi sono reso onde stavo tirando giù mezza libreria Perché è un genere che mi ha sempre appassionato per lo meno mi appassionava molto tanti anni fa Soprattutto quando ero studente di medicina la psichiatria era una devo dire delle mie materie preferite tant'è che ai tempi la diede anche con Trent e Lode Mi era baluginata anche l'idea di poter fare anche il psichiatra nella vita però ecco la professoressa Calandra che aveva all'università un pochino mi smorzò l'entusiasmo perché diceva che fra tutti insomma le specializzazioni che ci sono in medicina Diciamo il psichiatra è quello che ha meno diciamo così soddisfazione che paziente tende sempre diciamo così a evitarti quando ti incontra per strada Non sono dei pazienti particolarmente diciamo così affettuosi da quel punto di vista e spesso diciamo così le soddisfazioni che ti toglie sono veramente Soprattutto a volte anche perché insomma dalle patologie psichiatriche sì ci sono tanti farmaci però spesso e volentieri e non si guarisce quindi spesso a volte combattere contro i mulini a vento ecco Quindi un pochino mi smorzò ecco la professoressa Calandra ai tempi la voglia di fare il psichiatra poi mi venne anche quella di fare il medico legale alla fine sono finito a fare l'oculista Ma devo dire che la mente umana mi ha sempre veramente attratto mi ha sempre incuriosito e tutti questi meccanismi quando io studiavo la schizofrenia i disturbi paranoidi no queste le rimozioni no tutti questi meccanismi anche di difesa mentali che hanno che vengono attuati al nostro cervello mi hanno sempre affascinato no sapete anche un film come Psycho no ne sapete ne sapete già qualcosa ecco da quel punto di vista Allora ve lo faccio vedere adesso gli altri vari rappresentanti perché il maggior rappresentante che c'è dal mio punto di vista quello là che poco sia adesso forse un po in Italia non lo stanno traducendo più di tanto è Sebastian Fitzek Anche lui tedesco come Wolf Dorn anche questo è un autore molto giovane Wolf Dorn classe 1969 ecco naturalmente questo romanzo è del 2009 Il titolo originale è Trigger che secondo me già dal titolo forse hanno fatto bene a cambiarlo con la psichiatra A parte che Trigger non forse qua in Italia non dici ma che è sto Trigger no? E l'evento scatenante diciamo di un ricordo poi insomma poi ci addentriamo da questo punto di vista Qui l'anno che hanno la psichiatra ecco dando così il titolo con la protagonista Ma ritorniamo all'altro quindi dicevo la terapia di Sebastian Fitzek anche qui tra l'altro qui c'è pure scritto che è un psicotriller no? Ecco ho un bellissimo veramente adesso li mettiamo qua nel letto di mia figlia Bellissimo ricordo Altro scrittore no con i tedeschi basta ci sono gli scrittori francesi che si sono dedicati tanto anche a questo punto di vista Però questo qua lo prendiamo dopo perché voglio entrare più in quelli che trattano psicotriller puro come Frank Thillier Penso che la z non si pronuncia in francese è Frank Thillier Con questo L'Osservatore anche qui sono tutta una serie di thriller che sono abbastanza inquietanti Io questo qui l'ho definito la psichiatra di Wolf Dorn un thriller disturbante Poi ci addentriamo perché anche dei tocchi horror Altro francese che si diverte anche a giocare con i fantasmi e la mente è Jean-Christophe Granger Con questo qua titolo già Amnesia Già che vi fa entrare come sono l'ombra sono la preda sono l'assassino Ho una sola scelta uccidere l'altro ma se l'altro fossi io Ecco capite bene già che generi Di che genere stiamo parlando L'altro un altro francese Michel Bussi Qua nulla ti cancella romanzo bellissimo di cui credo di non aver fatto la recensione Era uno di quei romanzi che io ho letto in quel periodo in cui lasciai il canale di recensioni scarse Poi tornai con il collezionista di libri però è passato un po' di tempo Non portai più la recensione Ma mi resto impresso che questo nulla ti cancella Anche qui falsi ricordi, forse cose Passati che ritorno e vi dicendo Dobbiamo nominare anche Lars Kepler Questa coppia di coniugi E se non vederato svedesi Anche qui vedete qui ti servono indizi Ti serve tempo, ti serve un movente L'ipnotista Non avrai niente di tutto questo Ecco Questa serie di romanzi E poi ragazzi Giusto per nominarne anche qualcuno italiano Perché qua Non ti aiuta a sapere come Non ti serve capire perché Non ti basta scoprire chi Ma abbiamo il suggeritore di Donato Carrisi Insomma ragazzi Anche qui tra l'altro Li accomuna anche queste immagini di copertina Che mettono Fra gente che si tiene la testa Gente impaurita in un cantuccio Ombre Gente seduta Diciamo così Sulla tromba delle scale E vi dicendo Vabbè le altre le avete visti prima Questi qua li mettiamo qua E ci addentriamo Con appunto La psichiatra Allora ragazzi Voglio fare una prima parte In cui Diciamo restiamo sul generico E poi un'altra parte In cui Farò degli spoiler Quindi La poi vi avviso Metterò spoiler Perché mi addentro Voglio andare anche A dire alcune cosine Ecco Perché Anche qua La posso dire Nella parte In cui non c'è spoiler Io ho mangiato la foglia Cioè già Dalla Direte Quasi all'inizio Quasi all'inizio Dice vabbè E' un romanzo E' un romanzo D'esordio Quindi non può essere Un meccanismo Orologeria Perfetta Diciamo così Ecco Rispetto ad altri Dico anche la terapia Di Sebastian Vizze Che era Era il romanzo D'esordio Però Sarà l'ho letto Anche tanti anni fa Forse rileggendolo oggi Troverei dei difetti Però ragazzi Sono passati tanti anni Tante letture Un po' di esperienze Ma la sono fatta Quindi Quindi Certe cose le intuisco Certe cose le intuisco E certe cose non mi tornano E quindi Devo dire che Poi alla fine E' stato appunto Un confermare Quello là Che già mi aspettavo Ma di che parla Appunto la psichiatra Anzitutto siamo L'ambientazione di una clinica Psichiatrica Quindi ci troviamo In Germania Paesi inventati Dallo stesso autore Perché non voleva dare riferimenti Ecco Specifici Se tutto non si tratta Di questi casi Solo una cosa che racconta Lui poi lo dice alla fine Che è veramente successa In un altro luogo Con altri nomi E vi dicendo Quindi ha preso ispirazione Diciamo da quel fatto lì Insomma La protagonista E' una psichiatra Che si chiama Ellen Root E Lavora lì In questa clinica Ha un fidanzato Che parte La lascia Parte per un Deve andare A fare un viaggio In Australia Dove è irreperibile E Gli lascia però Una paziente Un caso particolarmente Interessante Come loro C'hanno pure Un acronimo Che si lasciano Così scritto Nella cartella Ed è una paziente Che è appena entrata Insomma In questa clinica Che è Terrorizzata Ha paura Si mette In un cantuccio Sta là Si morde le mani Puzza da morire I capelli pisciati Ha paura Dell'uomo nero Ecco E poi dice Questa frase Anche alla psichiatra Dice Questo uomo nero Verrà a prendere Anche a te Sta di fatto Che La visita una volta La visita due volte L'indomani Questa paziente Scompare Ecco Il bello è che Di questa cosa Nessuno nella clinica Sembra Saperne nulla Lei ne ha parlato Anche a un collega Che si chiama Mark Il fidanzato Si chiama Chris Ne parla appunto Di questo caso Perché lui dice Insomma Non ti fare coinvolgere Da questo caso Perché dobbiamo Tenere sempre Un certo distacco Questa paziente Sicuramente ha subito Un qualcosa Un trauma Una violenza Da parte di qualcuno Siccome scappa Fugge da questa clinica Le si dedica A fare delle indagini Perché ha paura Che quest'uomo Che la redotta In quel modo Possa farle del male Ma il bello E che qui poi comincia Una sorta di Di caccia all'uomo Anzi Al contrario Possiamo ammettere Che la perseguitata Diventa proprio La Ellen Quindi Diventa lei Lo scopo Diciamo così Dell'obiettivo Diciamo Di quest'uomo nero Che Ce l'ha Con questa donna E ce l'ha Appunto Con Con la nostra protagonista Quindi andrà a fare Per se ne vintaggi Non vi dico niente di più Questa qua diciamo Che è la parte Che io vi posso raccontare Senza andare lì A far spoiler Ci sono alcune cose Che io qua Mi sono appuntate Ve le posso dire Anche in quest'ambito Ma forse Magari le diciamo dopo Perché La parte così Poi continuiamo Diciamo così La scorrevolezza Io ho letto In una settimana Devo dire che inizialmente Lo stavo leggendo Molto lentamente Molto a spezzoni Poi alla fine Mi ha preso tantissimo Arrivato in centinaia di pagine Mi ha preso tantissimo E l'ho dovuto leggere Tutto di seguito Ho bloccato tutte le altre letture Appunto come vi ho detto Nel weekend Mi sono dedicato A finire questo romanzo Che non ve l'ho detto Ma sono Quattrocento pagine Ecco Trecento romantotto Pagine di Di romanzo Molto scorrevoli Quindi molto Descritto Un ottimo uso Del linguaggio Devo dire Metafore Ben dosate Non appesantiscono Vocaboli Che non sono Ricercati Insomma Questo fa sì Che venga fuori Una scrittura Abbastanza scorrevole Nella trama È un romanzo Molto semplice Perché come vi ho detto Ci sono essenzialmente Tre protagonisti Di cui Ellen Mark Appunto Che si dedicano Questa ragazza Che scompare E questo fidanzato Che non Posso farvi spoilare Ecco Di questo Chris Che è partito Per l'Australia E pretende Quasi del tutto assente Diciamo così Per tutto il romanzo Quindi Tutto gira intorno A questo qui Quindi ecco Diciamo Non ti deve mettere A fare i paragoni Diciamo Con gli altri autori Però La differenza Magari fra Un autore Come Wolf Dorn E un altro autore Come può essere Il mio amato Joel Dicker È che Joel Dicker Introduce Tutta una serie Di personaggi Che poi Va a tenere Soprattutto le trame Molto intrigate Va a tenere Tutti i fili Tutto quanto torna Alla fine Perché io sto attento Appunto alla logica Degli eventi E dei fatti Quindi quando poi Io vi dico Che tutto torna Perché ci sono stato attento In questo caso Ecco Devo dire Che ci sono Anche alcune cose Che non tornano Mi sarebbe piaciuto Un pochino di più La descrizione Dei personaggi Perché Ellen Non me la sono mai Riuscita a immaginare Com'è fisicamente Ho capito Si è capito Che ha i capelli scuri Però non so Di che colore Sono gli occhi Non so come Mark Sappiamo più che altro La caratterizzazione Psicologica Dei personaggi Quindi Mark Che fuma Le paure Che appunto Che ha la protagonista Il fidanzato Questi rapporti Diciamo così Che hanno fra di loro Però effettivamente Una descrizione fisica Non capisco Perché a volte Gli autori Non la danno Perché Basta poco Grandi scrittori Sanno tratteggiare Veramente Bastano due righe Per dire Insomma Anche solamente La descrizione Di un naso Degli occhi Del viso Com'è Ecco Quello là Ti permette Di Di immaginarteli Più facilmente I personaggi E in questo caso Vabbè Io e volte In un certo senso Li ho dati Me li sono immaginati Molto giovani Perché comunque Sia la ragazza La pissicata Mi pare che intorno Ai 30 anni Quindi è molto giovane E così Anche Devo dire Che la ricostruzione Degli ambienti Anche Diciamo così Ospedalieri E' vero Perché anche Nel policlinico Dove Lavoravo io C'erano Questi scantinati Sotterranei In cui vengono Fatti passare Farmaci C'è un corridoio Tutto sotterraneo Io la mattina Mi infilavo Per raggiungere Appunto Lo spogliatoio Dove poi mi andavo A cambiare Per poi Andare In sala operatoria Quindi mi è riguardato Un pochino Tutti quegli ambienti Vengono descritte Naturalmente Alcune pratiche Come l'elettroshock Insomma Devo dire che Lo stesso Wolf Dorn Non è che Parla di cose Che non sa Perché Lui ha studiato lingue E per anni Ha lavorato come Logopedista Per la riabilitazione Del linguaggio In pazienti Psichiatrici Quindi Lui ha una certa Domestichezza Con le patologie Psichiatriche Con questi tipi Di ambienti Vive vicino A Ulm In Germania Dopo aver scritto Alcuni racconti Si è dedicato Alla stesura Della psichiatra Vabbè Che è stato Un grande bestia L'internazionale Perché c'era scritto Qualcosa di più Da questo punto di vista Quindi Tutte le patologie Che lo descrive Molti di questi casi Io Li ho vissuti Nel Nel tirocinio Che feci Nel reparto di psichiatria Perché A volte Vengono raccontate Delle cose Delle cose assurde No E qua Però vi racconto Quella che ho vissuto io C'era un Signore che era Nel lettino E applaudiva Un termosifone E gli chiesi Ma perché si comporta In questo modo Dice perché Quello lì Ha dei disturbi Che praticamente Vede Una donna Posta del termosifone Vede una donna Che partorisce dei bambini Quindi ogni volta Che vede partorire un bambino Applaude Si complimenta Diciamo così Con la signora Io restai Veramente molto Ma molto Turbato Ma poi Inutile che ci addentriamo In questi tipi di patologie Perché Veramente Non ne usciremmo più Allora Quello che Andiamo un pochino così A A dire Che Sempre Dal punto di vista Logico Qui racconta Di un caso In cui Tale signore È restato Un blocco Non parla più E vi dicendo Per via No vabbè La cosa era un pochino più Intricata Ma non è questo qui il punto Perché Ha visto precipitare Sua moglie Dal settimo piano Ecco Lui qua scrive Che Quando Scrive appunto Questa cosa L'autore Margot Bok Si era Scandata Nel cortile Di cemento Accanto alla rastrelliera Per le biciclette E i bidoni blu Della spazzatura La caduta Non era durata Neppure un secondo Ora Se un corpo Cade dal settimo piano Di un palazzo Ragazzi Non c'è bisogno Che mi metta lì Con A cronometrare Ma un secondo Mi sembra un tempo Alquanto esiguo Insomma L'autore che scrive Dovrebbe un attimo Pensare Che A queste cose Un'altra Faccenda Che Qui Ho trovato E che mi sono appuntato Ma che in questo secondo Non mi sto ricordando Vediamo un pochino Che cos'era Vediamo Vediamo la persuasione Ah ecco Che Ellen Quando Questa ragazza È ricoverata Scompare Va nella stanza La cerca Trovandola vuota Non sa che cosa Non sa dove cercarla C'era un armadio vuoto No? Allora io credo Che chiunque di noi Un paziente così Che ha paura Bisogna darci una certa delicatezza Guardate un pochino Come descrive E come invece Io l'avrei cambiata Allora Ellen afferrò La maniglia Di un'anta Dell'armadio Si accertò di essere Una posizione di sicurezza Nel caso la paziente Pensasse di aggredirla di nuovo E l'aprì A parte l'odore di legno Vecchio Abbuffito E di detersivo Antibatterico Non arriverò Nient'altro Allora ragazzi Se poi avete una paziente Di questo tipo Che spaventatevi Dicendo cosa fate voi Se vi avvicinate Un'anta dell'armadio E l'afferrate E l'aprite di scatto No Casone Busso Ci dico Il nome non lo sa Però dice Sono la dottoressa Rott Sto aprendo l'anta dell'armadio Se sei lì dentro Non ti spaventare Sono io che la sto aprendo Dato che comunque sia Quella ragazza Ha avuto Una paura Diciamo così Pazzesca Dell'uomo nero Tu che fai aprire l'armadio Così l'improvviso Lei magari si è nascosta là Quindi questo Diciamo così Dal punto di vista logico Questa cosa non torna Credo che nessuno di noi Si sarebbe comportato In quel modo Altra cosa Di cui credo Che nessuno di noi Poi Sai che c'è sta leggenda Che il medico Sei medico No? E qualsiasi cosa accade Tu devi subito intervenire Con punti Filo No? Per andare Ague e filo Per andare a cuscire Subito qualcuno Che Ma un attimo prima Ellen È stata aggredita Da un uomo Lei si è difesa Gli ha spaccato Una cosa in testa Se non vado errato Ecco se era pagina 188 Gli ha spaccato una cosa in testa Dopodiché Quello stramazza a terra Viene la La moglie di quel tipo Cosa fa? Dice Presto Dissellere Servono olio E acqua per disinfettare Ma dai Cioè vabbè che è un medico Però voglio dire Un attimo C'è lo shock Quello ti ha aggredito Ti ha quasi spezzato le ossa E vi dicendo Tu sei riuscito a salvarti la vita Che fai pensi subito A disinfettare la finita Che ti hai fatto indire Non sta in piedi Questa cosa Va bene ragazzi Allora Io Concludo Questa prima parte Un romanzo Che naturalmente Un thriller Che vi consiglio Perché Vi terrà incollati alle pagine Come vi ho detto È ben scritto Una vicenda molto interessante Vi farà riflettere Non vi lascerà Indifferenti Molte scene Come vi dicevo all'inizio Sono anche horror Quindi Può piacere tantissimo Agli amanti di horror E ci sono scene Veramente Dal punto di vista Raccapriccianti Tante che Gli stessi protagonisti Spesso vomitano Ecco di quello che vedono Quindi Il romanzo rende forte Bisogna avere un certo pelo Sullo stomaco Ecco diciamo così Per Vi ricordo Che quando ci fu Una particolare scena Riguardando appunto L'elettroshock Una vasca In cui veniva chiusa O respirava Andava giù L'acqua gelida Era immobilizzata Che effettivamente La notte Ho avuto un pochino più Ho fatto un pochino più fatica Perché mi veniva A me Una cosa che mi dà Veramente paura Fastidio È quello di essere legato Legato Fermo Inerte Immobile Con qualcuno Che effettivamente Approfitta Di fare qualcosa Col mio corpo In questo caso Come è stato con l'elettroshock Che è una cosa Veramente tremenda Terribile Una volta Si usava veramente Come terapia Della depressione Di tanti altri tipi Di patologie E cercano di curarsi In questo modo Cioè veniva fatto anche qua Qualche nome famoso Di cui si curava Questa cosa E poi finiva Suicidio Naturalmente Però Ecco Insomma ragazzi Io ve lo consiglio Lo trovate facilmente Cioè Wolf Dorn Ha pubblicato Tanti altri titoli Non ve li ho portati qui Ma ce li ho anch'io Foglia profonda Il mio cuore cattivo Fobia Il superstito Il superstito è questo qua No Il superstito è no Un altro Il superstito Questo è la fissica Insomma ragazzi Ne ha scritto veramente tanti Tanti Continua ad essere tradotto Quindi è molto amato Diciamo così Anche dagli italiani Questo scrittore tedesco E non ho Veramente niente da dire Perché Beh Veramente molto molto bravo Adesso Finiamo la parte E ci addentriamo Invece in quella Dove ci sono gli spoiler Quindi Vi metto qua sotto l'avviso Prendo un attimo di respiro Vi do ancora qualche secondo Sta per iniziare La parte spoiler Ok ragazzi Allora Naturalmente io Non è che devo fare Il meraviglioso Quando vi dico Che ci sono arrivato prima In determinate cose L'autore Da questo punto di vista L'apprezzo Perché ha giocato In un certo senso Un po' a darmi pari A me piacciono questi autori Che non ti nascondono le cose Ma Ti lasciano gli indizi Il problema è che a volte Quando tu lasci troppi indizi Poi ci arrivi subito Per esempio Questa ragazza Che è scomparse Che non ha visto nessuno Nella clinica psichiatrica A parte la protagonista Non è credibile Vi dico perché Perché è un paziente Che si ricovera In un ospedale A maggior ragione In una clinica Psichiatrica In un paziente In quelle condizioni Quindi che puzza Vi dicendo Affedite infette alle mani E tutto il resto Non può passare inosservato Perché Se ne prende cura Naturalmente il medico Se ne prende in cura Perché dice che Chris era partito Che aveva E poi gliela lasciato Vabbè Però ci deve essere Una caposala Ci deve essere Un'infermiera Che fa i prelievi Ci deve essere qualcuno Magari un operatore Sociosanitario Che si occupa Comunque sia Di pulire la stanza E quindi È assolutamente impossibile Che si possa ricoverare Qualcuno In un ambiente ospedaliero E nessuno ne sape niente A parte il medico Che vada lì a parlare Quindi Io la foglia L'ho mangiata immediatamente Che era Un personaggio Una ragazza Che vedeva Appunto Solamente La protagonista E quindi Ho mangiato La foglia Immediatamente Altro indizio Che lui metteva Erano questi forti Mal di testa Che colpivano La protagonista Queste auree Si chiamano così Queste cefalee con aurea In cui si vedono Prima queste Mi capita spesso Nella mia pratica clinica Di riscontrarle Queste Questi flash Che vede i pazienti A stelle filanti Poi seguiti Da un forte mal di testa Di cui la paziente soffre Resistente Anche Ai farmaci Che assume Ecco E quindi Non me la son bevuta Da quel punto di vista Altra cosa Ecco Che poi Non mi Non mi è tornato Lui ha cercato Un pochino Di riannodare Tutti quanti i fili Alla fine Vi dicendo Però si è scordato Di un particolare Del biglietto Che trova Nella cassetta Delle lettere Di quell'uomo Appunto Che vi dicevo Che poi L'aveva aggredita Chi ce l'ha messa Là dentro Tutto torna E' stato Chris A portarci il coso Il libro lì Ma il biglietto lì Nel coso Chi ce l'ha messo E questo non è stato spiegato Perlomeno doveva dire Perché lei L'altra Le percosse Che lei subisce Alla schiena No Queste qua Gli ematomi Che vedono Come se li è creati Da sola Alla schiena Non vi è inchiarito Neanche questo qui Fin quando lei vede qualcuno Scambia un volto per un altro E vi dicendo Tutto ci sta Ma Tutto La parte in cui Lei si è Là ci può stare Che si immedesima Nel fatto D'elettroshock E la vasca La viene spiegato Le misure Come si chiamano Le serrature Là sono scattate Così A scattare E vi dicendo Però Dal punto di vista Gli ematomi Le percosse Come fa Questo è un pochino Un pochino L'altra cosa Ragazzi Le modalità Dell'omicidio Di Chris Che poi viene ritrovato Alla fine Nella casa Sono più da Da telefilm Ecco Da sceneggiato Da film horror Dicendo Una spinta Un uomo Col gancio Che colpisce qui Muore sul colpo Resta appeso E molto romanzato E poco credibile Poco credibile Non Da questo punto di vista La scena Mi ha deluso Da questo punto di vista Mi ha deluso Ma poteva descriverla In tanti modi E poco 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 credibile Da questo punto di vista L'altra cosa È che Va bene Io accetto C'è stata questa rimozione Di questo io Bambina Che era Lara Sostituita con un'altra Ellen Roth Ma in questo percorso Dovebbe averla seguita Qualcuno Quindi C'è stato Clinici Psichiatrici Psichiatri Che l'hanno seguita La madre Cioè Cambiare nome Come ha fatto a cambiare nome Da Laura Bowman A Ellen Roth Nella carta d'identità Nelle cose Ragazzi perché Qua Se io Sono Sebbi Flavio Gurisano Sono io Nella carta d'identità Non è che domani mattina Mi sveglio Cambio Cambio Carta Un altro nome Sulla carta d'identità No Perché si è registrato In quel modo E quindi Non è che stiamo parlando Di una vicenda avvenuta Negli anni 20 Ma Ambientata appunto Più o meno A giorni nostri Quindi Le vicende Era 2009 30 anni Insomma Capite bene Che siamo ancora In un ambiente abbastanza civile Dove appunto È difficile contraffare Diciamo così Delle carte d'identità E vi dicendo Tra l'altro Lo doveva fare Perché lei Ha sostituito Ha rimosso Ma Da dove viene Il passato Se l'è chiesto Sta ragazza E vi dicendo Come ha sostituito La vita precedente Quindi Questo mi lascia un pochino Sì Ci sono i casi di rimozione Le ho visti anch'io Quando ero in clina psichiatrica Mi lascia il dubbio Sinceramente Sullo stato On off Perché la protagonista Attiva Accende Spegne Continamente Allora Fin quando uno rimuove Convindo di essere qualcun altro Ma nel momento in cui poi Ti riaffiorano i ricordi Non torni più A essere Diciamo A essere quello di prima No Quindi Io Casi Così In letteratura Non me ne ricordo Casi Che ci sono stati di cronaca Di serial killer E vi dicendo Che rimuovevano Facevano Avevano a doppia vita No E tutto il resto Doppia personalità Personalità multiple Se ce n'è Però di questo caso In cui Lei prende coscienza Accende e spegne Vede e ricorda Poi continua a indagare No Quindi indagare Questo meccanismo Che lei indaga No E vi dicendo Come se fosse un'altra La reputo Un po' Un po' Poco credibile Ecco Mi è sembrato Diciamo così Un thriller Un po' Surreale Da questo punto di vista Poi Niente lo toglie Che sia divertente Bell Leggibile Ecco Mi sono divertito Tantissimo In leggerlo Quindi Non voglio che passi Il fatto che Non mi sia piaciuto Mi è piaciuto Queste piccole appunti Appunto Li volevo fare Perché Ripeto Poi naturalmente Un psichiatra Può venire qua A smentirmi E dire Tutto ok E tutto giusto Quello che è stato scritto O quello che ha scritto È possibile E vi dicendo Ecco Ripeto Di questi casi Io ne ho assistiti Ne ho visti Però Ecco Così On off Accendi e spegni E in questo caso Come viene raccontato qua Col paziente stesso Che indaga Ecco Ci possono essere Casi In cui Di Anche poi Il trigger Cioè Anche il trigger Cioè lì Tu pensi Che è stata la lampadina Che si è spende All'indrovviso Un ambiente buio Che faccia riaffiorare Questa paura Ma io non credo Che in 30 anni Questa ragazza Non si sia mai ritrovata Al buio Da nessuna parte A casa sua Tra l'altro Non aveva dato Segni di manifestazione Della paura del buio No E vi dicendo Quindi La vedo un po' difficile Sì Il ricordo del libro Della cosa I segni Un po' Deboluccia Ecco come trigger Secondo me è stato un po' Un po' Deboluccio Magari ci fosse stato Un pissica Ecco magari Si parlava di Chris Che aveva fatto in modo Di rifarli affiorare Ecco Se avete qualche altro Appunto Ecco da fare Sulla Diciamo così Sulla credibilità Della trama So tra l'altro Che questa protagonista Enel Roth Lara Bar Borman Borman Non mi ricordo di preciso Come abbiamo detto È bello Che adesso Non mi sto ricordando È tornata con L'ultimo romanzo Che lui ha scritto Quindi a distanza di tanti anni È tornata a parlare Di questa protagonista Perché Secondo me Mi ha messo anche Diciamo così Una certa curiosità Di sapere anche Che fine ha fatto Questa protagonista Se si è ripresa Anche perché Voi sapete che alla fine Ritorna a essere La Lara Ecco E quindi Tra l'altro Eccola Una persona Che ha subito Un trauma No Di questo tipo E vi dicendo Studia Psichiatria Guarda caso Va a fare la psichiatra E vi dicendo Anche lì Insomma Un po' Un po' Pericoloso Diciamo di sì Che Ha mantenuto il tutto Diciamo così Su un filo Sul filo Il rasoio Ha fatto l'equilibrista Wolf Dorn Su questo romanzo Vabbè Ragazzi Con questo qua Concludo E ci vediamo Ci vediamo appuntamento Al prossimo video Oggi ho preso Vabbè Qua non ci sarà arrivato nessuno Ve lo dico lo stesso Oggi ho preso Zagorbis Lo leggerò E domani O dopo domani Ne parleremo Con questo io vi saluto E ci vediamo appuntamento Al prossimo video Ciao